E vorrei parlare con Michele per cortesia. Con chi parlo? Sono l'avvocato De Cicco, sono Pasquale, quel ragazzo che ti soccorse sulla statale per Ottaviano il 3 gennaio. Ti ricordi? No, non mi ricordo ando bene, comunque diciamo, come non ti ricordi? Tu facesti l'incidente. E non mi ricordo ando bene, come non mi ricordo ando bene. Sto parlando con Pasquale De Cicco, con Michele Annunziata. Sì, dico. Hai fatto l'incidente sulla strada statale per Ottaviano? Sì, sì, io ti prestai soccorso, poi è innamorata tua mamma. Ma hai capito? Sì, sì, sì. Ma è giumisa a squadre che la manera quando fai danno? No, non mi ricordava manco? No, come in aeroporto tutta un'altra persona, dimmi, che c'è un problema, dica. Non c'è nessun problema, no, no, pure tu. Senti, io in occasione di quella volta di quando ci siamo visti sulla strada statale, là. Sì, sì. Poi venne le Susi, no? Con la mamma, con il marito della sorella, la sorella, eccetera. Sì, sì. E noi, non so se ti ricordi, insomma, ci scambiamo il numero di telefono. Sì. E da allora abbiamo cominciato a sentirci, ogni tanto ci mandiamo qualche messaggio, ci siamo la sera, e qualche volta ci siamo pure visti. Ma? Ma io parlavo con Susi, e praticamente, insomma, eravamo del parere che questa cosa era sciforo, perché, insomma, non ero corretto nei tuoi confronti a tenerla nascosta. D'altro quanto siamo grandi, adulti e vaccinati. Troppo. Sì. Eh, vabbè, qual è il problema? No, vabbè, io te l'ho già detto da uomo a uomo che c'è il secco. Se tu non hai problemi, mi so contenta così, a me lo fa più piacere. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sussi, io te l'avevo detto che fare questo genere di scherzo poteva ritorcersi. No, Fabio, richiama. Lo possiamo richiamare per dirgli che è uno scherzo, ma avrà una reazione... E richiamala, vedi se puoi continuare, perché sta proprio murendo. Facciamo parlare di te, perché io, purtroppo, non posso più... ho detto quello che dovevo dire, ho fatto quello che potevo fare. Pronto? Va bene. Non mi rompo, cazzo, come ti permette a far chiamare la gente? Ma capisci, po' puttana, ti fai chiamare così. Uè! Ma che stai dicendo? Che stai dicendo? Va bene. Ma ragazzi, chi ti ha chiamato? Eh, uno, mamma, ho paio scuola di Cicchi con l'Avvocato, cattò soccorso, e Susi stammarendo, ma ti tre fai spiegare. Mamma, mi hanno chiamato, mamma, giu... Ma ti ha chiamato? Ah? Ah, e io non c'avevo il coraggio di dirtelo io, perciò ti ho fatto chiamare da lui. Ma veramente è sta cosa? Eh? Maronna, perché sta grave una cosa? Eh, è grave, ma io che te lo dico, no? che faccio la tinta e... Ma veramente è Susi? Ma tu stai facendo... Maronna, mi, che puttana il film, no? Maronna, mi, io che non vedi stilazione... Io sono onesta che te lo dico e mi rebuti pure così. Ma no, Susi stai facendo, Susi? Eh, no... Susi? Susi, stai facendo vero, Susi? Sì, Michele! Maronna, mi... Non te lo dovevo dire! Mamma, ma questa è una cosa gravissima! Non te lo dovevo dire, Michele! Oh, ma non me l'avete visto? Ho fatto bene a dirtelo, ma io sono sempre... ma io sono sempre stata onesta, no? Che ti dico, quando è una cosa io te lo dico? Va bene, va bene! Io adesso non avevo il coraggio di dirtelo io! Ma faccio chiamare la vista? Eh! Non è meglio, scusa... Chi se fosse il mio futuro fidanzato? Maronna, ma mamma devo stare per questa cosa, scusa? No! No? Eh, ma la chiamare... E che gli dici? Che ti vieni da chiamare? No, ma la chiamare subito! Che ti vieni da chiamare? Parla prima con me! Perché tu le sei cose, io ho chiamato a tua mamma quando hai fatto... Sta puttando, sta puttando! Perciò ti bruci tutte cose, sta puttando! Che schifo, che schifo! E comunque, ora chiamo a tua mamma, glielo dico che mi stai offendendo! Chiamo io a tuo padre e ti faccio vedere! Ma tu ora, ma che stai facendo, Susy, di questa? Susy! Sì! Sono un attimo indagnata la parte importante! Sì che basta! Prepariamo! Basta! Va bene? Basta così! Chiudiamo l'argomento! Chiuso! Con me hai chiuso! È finito oggi, 14 febbraio, è finita! Perché ho spazzato questo? Che è chiuso di chiamare! Perché è chiuso di chiamare! Perché è chiuso di chiamare! Perché mi hanno scosto tutto questo? Perché io non ho il coraggio di dirtelo! Perché non sono brutto, ma lui! Brutto perché hai visto a tu! Ma come è brutto? Perché sono così bellino? Ma perché è brutto? Scusi, sono così bellino! Sono così bellino! Sto insieme a lui adesso! Ah! Eh! Ah! Brutto! Quindi non continuare! A dire bello, brutto! Ogni cosa! È bello ciò che piace! Lo sai! E la quando è chiuso? Eh! In venti giorni! In cinque giorni! Sì! 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 Va bene! Va bene! Va bene! Va bene, Gigi! E cosa c'è? Gigi ha fatto! Va bene! Va bene! Michele! 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 Ma guarda! Sì! Ma guarda! Ma guarda! Mi sparo mucca tutta la cucina! Wow! Pronto! Susi! Sì! E ora sono fatti i tuoi tesoroni! E richiama! Diciamo che è uno schifo! Azzù! Michele! Chi è? Talè! Chiedo scusa! Digno! Eh! Susi! Che ti voleva fare uno scherzo! Eh! Ma! Tu comunque abbrusco lo stesso! Perché tu non ti ha permette! Mi comprendere! Hai ragione! Hai capito? Vabbè! Vabbè! Però era uno scherzo! Tu non ti ha permette! Va bene! Va bene! Va bene! Sei su Radio Marte! Vabbè! 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 Grazie a tutti.